Oh, non è che abbiamo sbagliato strada? Io l'avevo detto, mettiamo Google Maps e invece no, dobbiamo seguire la stella cometa e ci siamo persi. Io sono venuto a giocare l'anno scorso qua vicino al calcetto, l'uscita è la prima dopo l'autogrill di Bethlehem, lo so. Vabbè, comunque è tutto a posto con il regalo, sì. Come avevamo detto, gli hai preso oro, incenso e mirra. No, veramente c'era in sconto sto set, profumo bagnoschiuma, molto carino, no? Dai però, una cosa dovevi fare. Vabbè, invece di lamentarvi, iniziate a darmi i soldi, eh. Mamma mia, te li diamo, te li diamo, spilorci. Eh no, perché qua fate i gruppi Whatsapp per fare il regalo tutti insieme e poi il credino che anticipa i soldi sono sempre io. Ma quando mai? Devo ricordarti il mese scorso, alla festa di Ponzio Pilato, eh? Ah, sì. Oh, raga, mi ha risposto Jessica alla storia del cammello nuovo che ho postato. Con il fuocherello? Te la fai, bro. Sì, dai, veloce così dopo scappa a Gerusalemme a casa sua. E te la fai. E me la faccio, sì.